cari telespettatori di rossini tv oggi mi trovo a pesaro per la precisione sono in via luigi negrelli 19 e vi parlerò di onda blu lavanderia self service di pesaro tra poco avrò il piacere di incontrare marco e nadia che mi racconteranno e parleranno di questa bellissima lavanderia e del loro primo anno di attività nasce tutto agosto del 2022 abbiamo dato il fatto che volevo dare un lavoro a nadia e anche un discorso che prognogasse l'attività quindi lavoro con la famiglia e per noi comunque quel discorso di lavanderia self era un discorso che poteva essere per noi importante vado a cesena a vedere l'altra filiale l'altra lavanderia onda blu cesena e siamo subito innamorati della del format della lavanderia l'abbiamo quasi copiato come format e l'abbiamo usato qua da noi per dare anche quelle qui plastiche a cesena a ho scelto onda blu quindi eletto luxe professional proprio perché stavo cercando una una ditta importante una un colosso una come importante dove ma nel loro grande hanno una un senso di di famiglia quindi noi siamo stati subito coccolati da eletto lux quindi da da gandolfi ci hanno scelto il negozio quindi sono tutti qua gli ho fatto vedere 4 5 negozi qua pesero e loro ha proprio hanno scelto dove aprire ctf è esclusivista di eletto luxe professional per il settore delle lavanderie self service dal 1992 noi abbiamo di fatto rilevato questa azienda nel 2016 e abbiamo sviluppato questo nuovo concetto di lavanderie self service che diciamo sta avendo molto molto successo nel tutto il territorio nazionale eletto profession è un'azienda che credo che non abbia bisogno di presentazione un'azienda che ha 120 anni di storia presente in tutto il mondo fatturato globale di oltre 15 miliardi di fatturato sono presenti sia nel domestico che chiaramente nel professionale con il settore laundry e del settore oreca però diciamo che il settore laundry è quello che sta avendo molto sviluppo negli ultimi anni anche grazie alle lavanderie self service i servizi abbiamo il lavaggio e l'asciugatura abbiamo comunque delle macchine appunto separate con le lavatrici la zona pet quindi con un marchio laundry for pets dove laviamo gli accessori per animali quindi dalle cucce dalle coperte per cavalli eccetera il servizio dell'armadietto che io l'ho chiamato fast wash locker e il lavaggio delle divise sportive ci sono vari tipi di lavaggio dal 40 piumone lavaggio dei piumoni lavaggio dei sintetici c'è il cottone colorato in più abbiamo una funzione più le nostre lavatrici hanno una funzione in più che abbiamo il lavaggio analergico il lavaggio analergico è un lavaggio che ha nel retro abbiamo dei detersivi ecologici per quelli che soffrono di allergie dermatiti per problemi insomma di allergie e ha meno profumo e non da reazioni allergiche e poi c'è molto importante il lavaggio della lana dei cappi della lana come dice fabrizio che è molto c'è la i clienti lo apprezzano molto arrivano molto fiduciosi di mettere dentro il bucato nella lavatrice però quando lo ritirano fuori la differenza il capo è più morbido e poi in più anche l'asciugatrice la lana hanno il timore che si restringe invece con l'asciugatura a bassa temperatura il programma lana dell'asciugatrice è ottimo i capi ritornano come nuovi abbiamo la lavatrice e l'asciugatrice per animali perché comunque sia sapendo che le lavatrici dell'umano non vanno messe cose con insomma di animali e molto sono molto contenti un negozio davvero molto molto moderno molto accogliente la qualità dei macchinari e dei servizi che offriamo è sicuramente uno dei primi del mercato basti pensare che le onda blu stanno nascendo in tutto il territorio nazionale davvero a ritmi molto molto alti